Ancora una giornata di sciopero a Bruxelles, in Belgio. La protesta è stata decisa dai sindacati contro i tagli salariari e il diminuito potere d'acquisto. Almeno 30.000 secondo le forze dell'ordine e le persone scese in strada, più di 40.000 secondo gli organizzatori della manifestazione. Si tratta della seconda giornata di astensione dal lavoro dopo quella indetta lo scorso 8 febbraio, quando migliaia di pubblici dipendenti sfilarono insieme ai disoccupati per denunciare il taglio dei posti di lavoro. Questa nostra iniziativa oggi è per dire al governo che quando è troppo è troppo. Le persone che oggi sono qui chiedono un lavoro onesto, corretto e pagato equamente. Tutti i lavoratori dicono no alla discriminazione. Il Parlamento belga proprio a febbraio ha approvato un piano che per il 2013 prevede nuove misure di austerità, volte a ridurre il deficit del paese. Il governo guidato da Elio Di Rupo spera così di risparmiare almeno 3 miliardi di euro. La protesta non ha avuto ripercussioni sul traffico aeroportuale o ferroviario di Bruxelles.